Ah, 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 Megan! 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 Ah, ah! Ora hai l'herpes! Megan, tu sei soldi spesi bene. Sei super sexy. È pronto il mio getto? Ah, sì, ma non vuoi passare la notte, insomma, a farsi un sacco di coccole? Non posso, non ho tempo. Devo andare con un altro uomo politico domani. Ok, Marouche, dalle regalino. Grazie. Dovrebbe essere tutto lì dentro, come tuo manager ha richiesto. A Katy Perry l'hai dato di diamanti, Rolex. Sì, ma lei ho schizzato tutto all'Adin in faccia. Grande, è sicura che non vuoi restare a farmi due coccole? No. Ti prego, mi andrebbero tanto due coccole. Allora in faccia. Grazie a tutti. Grazie a tutti.